Buongiorno, buongiorno, buongiorno Allora, che beee Ah, tono, funghi, prosciutto Allora, Luca Toni Qui potrebbe essere di doppelganger Con me e persone Di Knopo Knopo, Mazze Knopo Perché è il numero uno Luca Toni? Ok Allora, bello, ciao Ciao Luca Gute, come stai? Tutto bene Tutto bene, si, si Parlare è alemann? Germania? Poco 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 Ok, quelsi wörter spreche ich? Germania Eh? Che Parlare Parlare Io Spreche Du spreche Ich spreche Wir spreche Zwei Zwei Numero uno Bello Donna Welche Worte? Che Cosa Welche Worte? Kannst du mir zeigen wie geht? Wie Die Linke Oder Rechte Rechte Und Mit Linke Hand Dizze Dizze Kami Maggi Instehen Allora Possibile Ok Goal De Luca Toni Goal De Luca Toni Poi Ma che? Ok, provire Provire No, no, no No, merdo laila Zoh Merdo, merbevegu Merbevegu Dai, dai, dai Dai, dai Mit di andere hand Zoh Eh, andiamo Andiamo Kannst du singe? Probire Probire Ok Fritti scampi Et chianti calamari Luca sei per me Numero uno Cannelloni Luca Toni Peppe Rodi Luca sei per me Numero uno Bella donna Mamma mia Alimente Roma Riberi Amore mio Bello, bellissimo Clachen Come on, Clachen Allora 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 Dai, grazie Ok Eh, Gazzetta dell'Ubill Ciao Ciao Gazzetta dell'Ubill Numero uno Numero uno Numero uno Numero uno Game Over